buon pomeriggio a tutti cari amici dal vostro nicole da luci e bene dopo aver risolto il piccolo problema tecnico finalmente siamo in onda qui con voi per parlare dell'inter primavera under 19 che ha dato una bella manita ben 5 gol al napoli con un nulla a tiri veramente scatenato quattro gol no uno due tripletta per lui oggi comunque inter che con questo successo si porta 34 punti terzo posto seconda vittoria di fila mentre il napoli è sempre più giù zona retrocessione diretta quindicesima posizione con 12 punti per il napoli quarta sconvitta in 5 partite seconda doppietta di sconvitte come le altre due precedenti inter che sarà impegnata tra il 15 febbraio in casa della juventus mentre il napoli giocherà in casa il 17 febbraio contro l'empoli allora chiudiamo ricordando quindi manita dall'inter che vince in casa 5 a 0 contro il napoli per ora è davvero tutto ci vediamo più tardi ciao